gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia vi parleremo dei predicatori del bene contro il male di quelli che sono contro l'odio no come nei film dove c'è il bene il male i buoni contro i cattivi e rambo contro i vietcong rocky contro il pugile cattivo russo il bene contro il male è bene però qui non parliamo di stati uniti parliamo di casa nostra quindi l'elemento disarmante di quello che vi racconterò è che la corrente degli anti odio quelli che combattono gli odiatori non smette di fabbricare elenchi e segnalazioni il che come è noto alla logica rappresenterebbe in realtà un controsenso l'anti odio che trova dei nemici ma in che senso direbbe verdone in un film degli anni in che senso come quelli che sono contro l'odio che fanno delle liste di proscrizione adesso vi racconterò di questa lista che hanno tirato fuori una lista degli account più seguiti dai follower di estrema destra quindi sono andati a fare una ricerca non so in che modo lo abbiano fatto ma hanno seguito 114.000 persone di estrema destra hanno cercato di capire quali erano le loro fonti di informazione quali erano i loro influencer l'elenco è vario perché quando ve lo leggo vi farà morire da ridere ci sono dentro anche i carabinieri e la polizia non c'è niente da ridere però insomma abbiamo nell'elenco al primo posto assoluto Matteo Salvini Giorgia Meloni e Daniele Capezzoni al quarto posto abbiamo Nicola Porro il mitico Nicola Porro è seguito dagli estremisti di destra e così arriviamo fino a Lorenzo Fontana e poi c'è pure la polizia di stato e seguono anche le forze dell'ordine gli estremisti di destra no? Incredibile incredibile l'iniziativa è di Alex Orloschi che su twitter si presenta così expert in digital marketing quindi esperto in marketing digitali digitale e poi un sacco di altre parolone no? Per rinchirsi a bucca come dicono in Sicilia no? Tutti i paroloni in inglese no? In Sicilia non si dice così? Per rinchirsi a bucca riempirsi la bocca di questi paroloni no? expert in digital marketing ma va ma 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 parla come mangi va che non sei mai stato in Inghilterra e parli in inglese no? In inglese maccheronica no? Ebbè il l'Orloschi che non so chi sia ha fornito a mezzo social le anticipazioni di una ricerca che dice di aver effettuato assieme a Stephen Forti e a stop eating the fake combattere insomma una certa politica beh ma andiamo a vedere hanno studiato non so come hanno fatto il comportamento sui social network di quei 114.000 utenti che quindi sono stati selezionati classificati riconducibili a persone o enti che possono vantare un certo seguito all'interno della categoria follower di estrema estrema destra noi stiamo parlando di estrema destra stiamo non stiamo parlando di centro centrodestra stiamo parlando di estrema destra l'estrema destra non è né Meloni né Salvini né Berlusconi né Totti né Udc e Cipalippe trick e track l'estrema destra è un'altra cosa è un'altra cosa l'estrema destra è casa pound e sono altri altre formazioni chiamiamole formazioni perché non sono dei partiti in parlamento quali siano stati gli elementi per selezionare questi estremisti di destra non si sa beh dovremmo aspettare la pubblicazione definitiva beh c'è chi domanda qualcosa in più sui criteri di selezione per esempio poi c'è anche chi plaude all'iniziativa ecco ma attenzione è uno studio a dir poco imbarazzante perché ci sono pure le iene dentro i carabinieri la polizia cioè l'estremista di destra segue le iene segue i carabinieri segue la polizia quindi è un fans delle forze armate quindi un patriota estremista di destra ma all'interno del post viene mostrato un tweet di Salvini che si riferisce al completamento dei lavori in una scuola all'allucinante no allora adesso vi vengono suddivisi allora c'è questa classifica di siti o di influencer chiamiamoli così seguiti da questi estremisti di destra vengono suddivisi in diversi colori il colore una specie di color mattone sarebbero i fasci vengono proprio definiti i fasci come quel film di verdone no com'è che gli diceva a quella ragazza attento fascio che a mio padre gli ho sputato pure in faccia non ve lo ricordate quel film dove c'è verdone con la fidanzata che arrivano da un da una comunità no e parlano con mario brega no e poi a fascio e qui qui c'è ancora gente che definisce i fasci no incredibile era dal 1988 che non sentivo più definire qualcuno un fascio i fasci ebbene tra i fasci abbiamo giorgia meloni fratelli d'italia sardone silvia e giovanni toti anche giovanni toti un fascio è fantastico ma non c'è niente da ridere comunque poi abbiamo i fasci lega cioè i fascio leghisti che sarebbero matteo salvini rinaldi euro e poi abbiamo marco zanni 86 questi sono gli influencer classificati da fasci quelli che ho detto prima ai fascio leghisti e poi abbiamo quelli solo lega però matteo salvini e fascio leghista l'account no secondo questa classifica poi abbiamo la lega e lega salvini alberto bagnai noi con salvini manfredi potenti molinari ric abbiamo ledi onorato poi abbiamo m fedriga poi abbiamo lu morisi e santoni uobi ecco e poi abbiamo quelli che vengono definiti quando qua non realmente non so che cosa sia il qua non e poi abbiamo quelli grigi no quest'aria grigia che non ha definizione quindi in questa classifica degli dei dei più seguiti dagli dai dei militanti di estrema destra abbiamo in testa abbiamo matteo salvini no il più seguito dagli estremisti di destra poi abbiamo giorgia meloni a scendere capezzone nicola porro vittorio anche vittorio sgarbi borghi rinaldi poi abbiamo real donald trump poi abbiamo lega salvini fratelli d'italia alberto bagnai giorgio la porta sardone silvia noi con salvini manfredi potenti abbiamo molinari ledi onorato zai preside zai a presidente no gli estremisti di destra seguono zai a presidente poi abbiamo fedriga susanna ceccardi gli estremisti di destra seguono anche susanna ceccardi seguono anche sky tg 24 gli estremisti di destra preferiscono sky tg 24 e poi abbiamo i carabinieri gli estremisti di destra sono seguono sui social i carabinieri e poi abbiamo abbiamo anche poi incredibile bene ci siamo fatti quattro risate crasse proprio crasse va bene a parte queste stupidaggini queste liste di prescrizione di che cosa seguono gli estremisti di destra insomma quindi chi segue matteo salvini su facebook è un estremista di destra ma piantatela va non sapete neanche che cos'è un estremista di destra ma studiate cribio cribio ma cribio ma che fate queste classifiche cribio io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci